buonasera buonasera a tutti ciao benvenuti e bentornati sul canale di disordine creativo è tantissimo che non ci vediamo spero che l'illuminazione non sia troppo sparaflesciata perché è sera ma è l'unico momento che ho per poter registrare e spero anche di non essere interrotta né dal cane né da qualcuno che suoni al campanello né dal telefono perché la rinella magari potrebbe chiamarmi se è così interromperemo allora sono stata un po lontana per varie vicissitudini familiari e non prima cosa il mio romeino non è più tornato se ne è andato il 17 di dicembre e nulla non è più tornato io mi auguro che qualcuno lo abbia preso e lo stia coccolando ma si sa che i gatti sono in giro le macchine vanno e il fatto che non sappiamo bene che cosa gli sia successo non mi da la possibilità di prendere un altro gatto perché perché se poi torna e questa è una cosa che è successa forse dopo l'ultimo video che abbiamo fatto dove vi facevo gli auguri e poi dove ho fatto il tutorial mi spiace mi spiace un sacco era cinque anni che era con noi vabbè è andata così quindi io mi auguro sempre che prima o poi torni allora vi ho anticipato sui social che in questo periodo purtroppo non riesco né a lavorare a maglia né lavorare all'uncinetto né tanto meno cucire perché ho una fortissima infiammazione alla cuffia dei rotatori che poi si percuote ovviamente su tutto il braccio io ho sempre sofferto di questa cosa insomma avevo già fatto degli esami delle visite specifiche un bel po di anni fa e mi avevano detto che ero troppo giovane per essere operata troppo giovane ragazzi per essere operata ma poi mia mamma era già stata operata di questa di questo per questo problema e non aveva risolto più di tanto nel senso che dopo un annetto due lì si era riproposto comunque il il problema e quindi io per il momento non voglio farmi operare però ho passato quasi un mese con un dolore fortissimo tant'è che di notte se mi dovevo girare nel letto con questa mano dovevo spostare il braccio perché era un dolore insopportabile ho provato a fare dei massaggi ho provato a fare degli impacchi di creme antidolorifiche nulla sono 15 giorni più o meno 10 giorni che sto applicando dei cerotti che ho trovato in supermercato non quelli dalla farmacia che costano un patrimonio 4 cerotti 4 euro e sembra dico sembra non lo voglio dire troppo ad alta voce che la situazione stia migliorando generalmente ho questo problema durante l'inverno perché con il freddo mi si accentua e poi probabilmente io ho una postura non mi accorgo quando esco che fa freddo mi irrigidisco non lo so non lo so fatto sta che ragazzi c'è un dolore pazzesco e quindi francamente non voglio aggiungere altra infiammazione lavorando ai ferri o a maglia ma potevo stare ferma potevo non trovare qualcos'altro che mi potesse interessare coinvolgere anche perché sto vivendo un momento molto pesante difficoltoso io in prima persona non sono pimpante perché sono in quella fase dell'età delle donne la menopausa e mi sta dando dei grossissimi problemi a livello di umore a livello di scalmane io sto soffrendo tantissimo mi ha creato molti problemi dal punto di vista della sudorazione della mi escono degli eritemi perché sudo troppo mi sveglio di notte e non sto bene mi viene la tachicardia insomma tutte queste cose non voglio prendere delle cure ormonali mi terrò le mie scalmane ma tutto questo così mi ha un po sbalestrato e l'altro problema tra virgolette è che c'è la mia mamma che non sta proprio benissimo sta facendo un po di visite di controllo e settimana scorsa purtroppo ha avuto una mancanza di memoria allora chi mi conosce sa che io con la mancanza di memoria sono così mio papà quando 19 anni fa no 20 anni fa ormai perché è morto da due anni ha avuto le prime amnesie poi l'hanno portato ad avere un'emoregia celebrale che l'ha reso che l'ha portato alla paralisi quasi totale e quindi quando lei mi ha telefonato non ricordandosi perché aveva apparecchiato perché aveva preparato da mangiare e tutte queste cose io io mi sono sentita male cioè veramente mi sono sentita male detto no ci sono un'altra volta no adesso che cosa faccio quindi la prima cosa che le ho detto detto sì dovunque tu sia siediti aprimi la porta sto arrivando ho rischiato di fare un incidente io abito esattamente a tre minuti di macchina da mia mamma ho rischiato di fare un incidente in macchina non capivo più niente avevo già pensato di tutto e di più fortunatamente non è stato nulla di celebrale perché il pronto soccorso il 118 è arrivato l'ho portata subito al pronto soccorso fortunatamente sono stati gentilissimi molto scrupolosi e con l'attacca hanno verificato che non c'era stato nessun danno celebrale perché non era partita nessuna ischemia nessun piccolo infarto o celebrale nulla di tutto questo lei in questo periodo è molto stanca molto preoccupata per gli esami che deve fare ed è stato proprio la dottoressa che poi mi ha richiamato è stata molto gentile mi ha spiegato che può succedere per la anche se per lo stress di avere queste amnesie temporali momentanei va bene speriamo che non succeda più o comunque che non succeda troppo spesso e quindi io mi sto rendendo conto che sto facendo veramente veramente molta 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 fatica a cercare di supportare e sopportare tutto questo penso che la mia forza stia man mano calando mi preoccupo per niente se vedo che il telefono suona più volte con il suo numero comincio ad agitarmi ancora prima di rispondere probabilmente sono un po stressata anch'io anzi non probabilmente togliamo il probabilmente sono stressata anch'io fatto sta che sia il braccio sia tutta questa situazione molto pesante dal punto di vista psicologico per me e poi sapete io sono da sola è vero tanti di voi mi hanno detto guarda che avere i fratelli non vuol dire che ci sia qualcuno che ti aiuti è vero avete ragioni però comunque c'è qualcuno che magari non vi aiuta che magari non vi sostiene ma c'è qualcuno io sono sola e questa cosa ormai sono tanti anni sia da quando è successa tutta la cosa di mio papà che poi adesso mia mamma che è rimasta sola perdo un po i pezzi rimango un po indietro faccio fatica poi io comunque ho una famiglia con tre figli lavoro la mattina ho una casa grande e non è che io ogni cinque minuti posso andare su da mia mamma perché una volta al mal di collo poi al cerotto da mettere una volta si è dimenticata il pane e quindi portagli il pane ho per fortuna i miei figli che mi danno una grossa una grossa mano e anche mio marito però insomma la responsabilità è mia e io questa responsabilità me la sento tutta e ultimamente sto facendo veramente fatica non dico che è una cosa che non ci deve essere però sto facendo veramente fatica e tutto questo mi stressa mi stressa un botto oltretutto non ho neanche il tempo per mettermi lì e che ne so fare i miei cosmetici direte ma questa viene a parlarci di skin care oggi quando fino all'altro giorno ha parlato di cosmetici and made allora non ho lasciato da parte i cosmetici and made non ho rinnegato nulla mi piace tutto quello che c'è dietro a queste creazioni a queste produzioni il fatto che sia ingredienti naturali e tutte queste cose ma io in questo momento non ce la faccio e ho bisogno di rilassarmi e come si rilassa la heli facendo shopping facendo shopping cercando altre strade creative e questa strada creativa nuova che mi si è presentata nuova per modo di dire perché avevo già sentito parlare della della skin care coreana sia nel gruppo di cosmesi di flower tails perché comunque c'era maglia che aveva fatto delle linee che io poi ho riprodotto ed ho provato quindi veramente molto valide e però tutto questo discorso mi interessava anche dal punto di vista tra della tradizione coreana da dove spuntava in loro questa cura della pelle quasi tra virgolette maniacale perché da noi non c'è mai stata io non so voi ma cioè la mia massima skin care fino a prima di un mese fa due mesi fa era la detersione del viso e la crema prima di mettere il trucco ok bene mi sono un po' documentata ho trovato tre libri molto interessanti ma davvero molto molto belli che mi hanno introdotta un pochino in questa nuova in questo nuovo mondo molto interessante e adesso ve li voglio presentare e poi parleremo mi piacerebbe fare delle puntate in questo momento visto che non riesco a fare nient'altro e questa cosa mi fa star bene e come dice l'amica youtuber paola gattaluna kimono blu chi non la conoscesse vada assolutamente a iscriversi al suo canale perché è una donna meravigliosa splendida intelligente colta ironica simpatica una bomba e io mi rilasso un casino in questo periodo con i suoi video fate quello che vi fa stare bene io in questo momento sto bene facendo queste cose e quindi perdonatevi se ho abbandonato tutto il resto e percorro un altro filo come dice la mia amica mommi fai quello che ti piace fai benissimo anche se hai lasciato perdere altre cose e poi noi siamo così io ho una mente così la mia mente creativa deve cambiare deve trovare nuove strade nuovi stimoli sono rimasta fedele nella mia vita a tre cose a mio marito ai miei affetti di più quattro cose allora a mio marito fedele ho fatto 25 anni di matrimonio settimana scorsa quindi fedelissima dopo 10 anni di fidanzamento quindi sono 35 anni di fedeltà assoluta agli affetti in generale alle amicizie sono super fedele nelle amicizie e a quello che è il mio lavoro penso siano le cose principali a cui essere fedele per il resto io cambio e cambio sempre ma ritorniamo al discorso della skin care parlando poi con la mia amica franci ciao franci se mi stai ascoltando ti saluto e ti ringrazio per il libro che mi hai prestato parlavamo ma dai ma cosa stai facendo in questo periodo ma cosa ti piace e così ho chiacchierato un po di skin care lei mi diceva sai che anch'io sono interessato ho comprato un libricino carino te lo presto e allora sono partita leggendo questo libro sette riti di bellezza giapponese qui dice solo sette il metodo per una pelle perfetta e capelli di seta allora questo è un libro molto molto carino dove racconta in maniera molto semplice quella che è la skin care coreana cioè quindi questa cura della pelle all'inizio quando l'ho letta pensavo quasi una cura ossessiva della pelle ma poi mi sono ricreduta questa cura della pelle della propria bellezza ma come un rituale così personale così intimo che diventa un gesto d'amore secondo me verso se stessi e almeno io ho colto questa cosa non so se se l'ho colta perché sono in un momento particolare dove ho bisogno di trovare delle cose per volermi bene e nulla e quindi ho cominciato a leggere questo libro si legge veramente molto velocemente l'ho letto in due sere ed è scritto da una blogger e illustratrice parigina che si occupa da tantissimi anni di salute di benessere e di cosmesi si chiama elodie joy jobert allora io non ero brava con l'inglese non sono brava con il francese immaginatevi con i prodotti coreani con i nomi coreani ma fa ne got va bene così con il dialetto sono bravissima va bene e niente in questo libricino molto molto semplice molto molto fluido spiega un po' quello che è la skin care coreana qui la divide in sette step negli altri due libri che ho letto gli step arrivano a dieci completi e già lì non cominciate ad avere le palpitazioni perché dieci step assolutamente no li farete se è una cosa che vi interessa li farete io li ho fatti vi ripeto i miei step di skin care erano lavarsi la faccia col sapone passare l'acqua micellare e mettersi la crema a borro l'acqua micellare il sapone lasciamo perdere la crema va bene ok questa era la mia skin care perfetto quindi questo se volete approcciarvi proprio a un metodo molto molto semplice davvero per introdurvi in quella che è la skin care coreana secondo me questo è un ottimo libricino poi io non sono mai contenta poi i libri mi piacciono puoi sapere le cose e conoscere ancora di più ho preso altri due libri uno è questo beauty separates gli autori ve li lascio poi sotto negli infobox vi lascerò tutte le informazioni possibili e immaginabili questo comunque è il libro non sono neanche capace di leggere le autrici perdonatemi mi raccomando controllate sempre l'infobox perché io so che tante persone non la guardano e quando mi fanno i commenti poi mi dicono ma qual è lo schema per quella maglia ma che libro hai ragazze io ci metto un'ora a preparare tutte le notizie dell'infobox guardatele guardatele che vi servono e nulla questo è un libro scritto dalla fondatrice della casa cosmetica adesso ve lo dico perché io non me la ricordo più se non ricordo male miin 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 m iin esatto m iin dove appunto racconta comunque la sua scoperta della cura di questa routine coreana già da piccolina perché se non ricordo male lei è cinese dice che vive in cina quindi probabilmente è cinese poi trasferita in spagna ma già da piccola sua madre l'aveva introdotta in questa in questo cammino di di bellezza insomma quindi dice a 14 anni quando ancora vivevo in cina quindi ok mia madre mi ha regalato il primo kit per la cura del viso a 17 per la prima volta mi sono comprata dei trucchi con i miei soldi ho scelto due prodotti fondamentali una crema adattante e un detergente che non ho mai più abbandonato ma da lì poi parte tutta una ricerca quando poi capisce che la sua strada è quella della cosmesi studia e nulla e poi il libro si articola descrivendo in maniera veramente molto semplice molto esemplificativa si dice così tutti questi dieci step della skin care coreana che sono veramente molto affascinanti molto interessanti è una cura di se stessi che parte dal dai tempi proprio fa parte della loro tradizione tanto che dicono in tutti i due libri che praticamente già nei tempi antichi gli uomini non sceglievano le donne se non avevano una bella pelle può essere giusto può essere non giusto non entriamo in questa discussione e quindi loro ce l'hanno un po' come così come nel dna insomma no di 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 curarsi in maniera che potrebbe essere quasi ossessiva bene e questo libro mi è piaciuto molto mi è sembrato dal punto di vista questo è una mia opinione personale molto più commerciale di quest'altro libro che secondo me è un gioiellino questo libro è un gioiellino è stato scritto da charlotte co si potrebbe essere che non è subito entrata nel mondo della skin care coreana anzi lei è coreana di nascita genitori coreani che si sono trasferiti in california però quando lei era ancora piccolina la sua famiglia si è trasferita in california e non ha mai avuto cura della sua pelle tant'è che racconta in maniera veramente molto ironica molto simpatica tutto quello che faceva quindi abbronzarsi senza nessuna protezione carnagione così bianca quindi cercava assolutamente qualsiasi modo per diventare più scura si tingeva i capelli di biondo non ha mai avuto andava letto truccata anche io anche io sono cose che ho fatto in gioventù ma se ci penso adesso andavo a letto arrivavo a casa alla sera dalle mie uscite all'oratorio cioè truccata va bene e non mi struccavo ragazzi non mi struccavo veramente la mattina la mia pelle era carta vetrata me lo ricordo ancora era carta vetrata avevo gli occhi da panda uscina non che adesso sia una bellezza però veramente uscina e niente racconta tutte queste piccole vicissitudini molto molto simpatiche molto carine poi per un'occasione di lavoro insomma lei viene lei lavora alla samsung viene inviata in corea per come salto di qualità di carriera insomma e lì riscopre un po' tutta quella che è la sua cultura la cultura coreana sia dal punto di vista del cibo ma soprattutto dal punto di vista della cura di sé e spiega davvero in maniera molto meticolosa tutti i passaggi il perché del fare una cosa il perché della doppia detersione a cosa serve la doppia detersione perché il tonico perché l'essence insomma perché tutti questi passaggi sono veramente necessari allora io non lo so se sono veramente necessari può darsi di sì può darsi di no alcune volte uno ne fa soltanto tre alcune volte ne fai cinque quando hai tempo ne fai dieci la cosa che più mi ha sconvolto e al quale io non ho mai prestato attenzione è stata per esempio che loro cioè in questo libro sembra quasi che ci sia un terrore verso i raggi solari cioè quindi diciamo quasi la cosa più importante è la protezione solare alla fine di tutta la skin care io a questa cosa non ci avevo mai pensato e francamente non ho mai usato una crema solare durante l'anno prima del trucco mai anzi la crema solare la metto se vado in montagna se vado al mare non vado mai al mare perché non è una cosa che mi piace tantissimo ma quando vado in montagna metto la mia crema solare protezione 30 e via andare no la protezione solare 50 quella ad ampio spettro che protegge da tutti i raggi e descrivendo anche alcuni casi particolari dove è stato scoperto dopo alcuni esami alcuni esperimenti scientifici come la pelle si rovini senza protezione e lì mi sono un po' spaventata insomma sono spaventata perché dico ma io che cosa ho fatto cioè sto facendo del male alla mia pelle in più e vabbè niente e questo è un particolare quindi questo libro io ve lo consiglio diciamo che secondo me è il più bello e il più ricco di tutti e tre anche solo così se non vi interessa la skin care come pratica ma se volete conoscere la tradizione diciamo il significato di tutti gli step ma proprio perché secondo me regala una visione di questa routine come una coccola speciale per se stessi e basta tanto che io che cosa ho fatto? ho cominciato a seguire qualche canale allora adesso non me li ricordo tutti vi dico soltanto due canali che sto seguendo e che mi piacciono molto ma ne ho scoperti in questi giorni altri poi ve li metterò nell'info box perché sono tutti canali che parlano di skin care che parlano di make up a me il make up interessa sì ma vabbè non è che io poi faccia chissà quali cioè non è che mi scialo vado a qualche festa però mi piace mi piace truccarmi mi piace avere i miei prodottini e ne ho tanti come potete immaginare sapete che io sono una collezionista la collezionista che cosa fa? colleziona colleziona rossetti colleziona matite per le labbra che non ha mai usato colleziona matite per gli occhi che ha sempre usato perché il mio punto forte sono gli occhi voi non li vedete ma il mio punto forte sono gli occhi adesso mi avvicino magari così li vedete così li spaventate però io ho gli occhi molto chiari vedete come è truccata punto forte per morire perché sembra una balena però fa niente comunque e quindi mi piace mi piace avere i trucchi così ma la cosa che mi piace che mi piace di più è avere i prodotti per la cura della pelle i prodotti per i capelli i prodotti per il corpo se riesco me li faccio se non riesco non c'è assolutamente nessun problema non sono una telebana io me li compro perché poi tra l'altro mi piacciono i cosmetici profumati a me piace il profumo nei cosmetici che non sia troppo intenso però mi piace non mi piacciono i cosmetici che non hanno profumo mi spiace ma è così e sapete che sono anche appassionata di profumi e quindi tutto quanto e quindi niente ho cominciato a guardare dei video mi sono interessata e allora innanzitutto ho scoperto tramite Paola Gattaluna Kimono Blu che appunto nei suoi video consigliava varie make-up artist e varie amiche che facevano dei vlog e ho cominciato a seguirle adesso ne sto seguendo circa una decina perché poi ci sono quelle che mi piacciono tanto ci sono quelle che magari trattano degli argomenti che per me cioè proprio a me non interessano nel senso che ci sono quelle che fanno dei trucchi che sono veramente stupendi dal punto di vista artistico sono bravissima io non potrei mai fare una cosa del genere quindi le guardo mi piacciono ma poi magari non le seguono e ho scoperto quindi Gattaluna Kimono Blu e tramite Gattaluna Kimono Blu ho scoperto Giulia Cova che è una donna fantastica bravissima molto competente molto 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 competente se non la conoscete seguitela veramente perché dà molti consigli ma non sparati così per aria solo perché ha comprato il prodotto perché l'ha provato per me è una delle migliori per me che io poi non capisco niente di queste cose però dico per me è una delle migliori a me piace tantissimo e tramite Giulia Cova sono venuta a conoscenza aveva fatto un video dove raccontava la skin care di questo prodotto che lei ha provato e che ha conosciuto che è tutta la linea di skin care di Iepoda Iepoda è un marchio coreano non vorrei dire una stupilata ma penso sia coreano sia coreano di come costo medio alto perché ragazzi ho visto di quei costi ma c'è tipo dei sieri da faccia delle maschere 80 90 120 euro quindi secondo me questo è un medio alto perché sta nel range dei 30 40 50 insomma queste cose e dopo il suo video dove fa vedere tutta la skin care completa ho deciso di acquistare tutta la linea allora ci tengo a dire che non sono sponsorizzata l'avrete capito anche voi perché chi cacchio vuoi che mi sponsorizzi comunque lo dico per essere chiari i prodotti che io vi farò vedere in questi video me li sono comprata da me mi sono fatta il regalo a me e e nulla ho provato poi in quel periodo c'erano c'era i due kit della linea completa scontati già sul sito del 25 30% in più con il codice di Giulia Cova oltre a questo sconto erano scontati del 40% quindi praticamente io con poco più di 100 euro mi sono comprata tutta la linea completa dei 7 7 step 8 step che mi dureranno un anno presumo a parte forse qualche prodotto che è quello che uso di più più volte al giorno nel senso che poi vi spiegherò bene però per il resto presumo che durino un anno ma poi si sa che la Eli come tante altre persone quando vede un prodotto dice ma cos'è questo? ah un detergente oleoso ma vediamo se ne esistono degli altri dai che li proviamo e quindi vabbè la cosa nasce cosa e quindi facciamo girare l'economia perché se provassero un solo prodotto cioè le aziende di cosmetici non vivrebbero più ovviamente e noi cosa ci stiamo qui a fare? dobbiamo aiutarle quindi compriamo i prodotti vabbè questa è veramente una battuta vabbè fatto sta che ho provato questa skin care coreana con tutti gli step sì e mi sono accorta dopo esattamente un mese che la sto usando che la mia la mia pelle è veramente veramente cambiata ma su serio è cambiata allora io ho una pelle mista grassa in alcuni punti anche secca ce l'ho grassa nella linea T un po' mista qua ma sulla fronte e qua sotto da parte è alcune volte veramente molto secca in più in questo periodo di menopausa la mia pelle è cambiata tantissimo molto più sensibile sensibilissima tant'è che prima io utilizzavo a volte l'acqua micellare non la riesco più a usare ma anche quella più delicata mi brucia sulla pelle che devo non la posso mettere cioè non la posso usare e poi ho scoperto un'altra cosa dell'acqua micellare ma voi lo sapete che vi si deve risciacquare io non lo sapevo l'ho scoperto in tutti i video di queste fantastiche influencer e vips che spiegano benissimo tutte le cose e io non lo sapevo quindi cagata assurda me la sono sempre tenuta sulla faccia va bene detto questo ho cominciato a provare tutti questi prodotti allora io vi parlo bene di questi prodotti perché li ho provati ed è l'unica linea che in questo momento ho provato poi ce ne saranno sicuramente di migliori tantissime immagino perché il mondo del beauty della skin care ragazzi penso di aver salvato in questi giorni 150 siti tutti belli tutti ricchi italiani giapponesi francesi dell'Europa dell'est spagnoli voi non avete via ma quando entrate in quei siti lì mi sembra di essere in paradiso in paradiso allora la cosa principale il mio consiglio è che voi dovete conoscere molto molto bene la vostra pelle perché ci possono essere i prodotti più belli del mondo più buoni del mondo più costosi del mondo che non vuol dire che siano i più buoni ma se voi non conoscete la vostra pelle rischiate di comprare un prodotto non adatto e quindi probabilmente poi vi farà schifo oppure non farà il suo lavoro non agirà come dovrebbe agire ma perché è proprio il tipo di pelle che non è corretta per quel prodotto quindi informatevi controllate guardate come la vostra pelle la sapete se vi truccate se comunque fate un minimo di beauty routine sapete benissimo com'è e sapete quali sono i prodotti che sono più adatti a voi quindi sicuramente dovete conoscere un pochino la vostra pelle in alcune profumerie ci sono dei test gratuiti io ne avevo fatto uno da Mariano un qualche anno fa e mi aveva detto che avevo una pelle appunto mista grassa e che però era molto ben idratata che non avevo particolari rughe effettivamente poi sono bella cicciottina quindi le rughe non ci sono e però mi sono accorta appunto che in questo periodo di menopausa la mia pelle è diventata veramente molto molto sensibile e alcune volte manca di idratazione proprio e così ho provato a fare questa questa skin care io stasera vi presento tre prodotti e poi la prossima volta vi presenterò gli altri questi tre prodotti sono uno il burro per struccare che è una cosa favolosa io non conoscevo la detersione oleosa beh ragazzi c'è questo tira via anche il cemento che hai sugli occhi fantastica poi vi presenterò il secondo step della detersione che è la detersione aspettate perché qua devo essere preparata e ho qua una schiuma detergente a base di acido salicilico e melograno e poi vi presenterò la maschera e ci fermiamo qui perché se no arriviamo a notte ho qua sei fogli di appunti e quindi direi che può essere più che sufficiente allora il primo prodotto è questo e si chiama The Calm Balm ed è un balsamo detergente all'olio di oliva e cocco rimuove il trucco in profondità e non lascia nessuna traccia da cosa è composto allora in questo barattolino adesso ve lo faccio vedere spero che il colore sia lo stesso però è un po' flashato è un verde mela ok si vede forse così ok è un verde mela il prodotto che vedete io l'ho consumato in un mese quindi secondo me questo qua mi basta per altri sei mesi io questo lo uso solo nella skin care serale quando sono truccata quando ho il rimmel il fard non si dice più fard quando il blush oppure la terra o l'illuminante io ce li ho su tutti e tre bella spalmata e il fondotinta ho l'ombretto sugli occhi ho il il mascara non uso mai mascara waterproof perché non mi piace non mi piace la sensazione pesante che ho sull'occhio io uso solo mascara normalissimi di varie marche ma normalissimi e praticamente cosa fate il primo step è questo da viso asciutto io mi tolgo gli occhiali adesso non vi vedo adesso li rimetto con una palettina che era in regalo nella nella confezione prelevo la mia quantità a me ne basta tanto così per struccare tutta la faccia me la metto sulle mani la spalmo vi faccio anche vedere consumo un po' di prodotto poi c'ho anche le salvetine struccanti che uso solo per fare queste cose vedete così si scioglie col calore delle mani vedete perfetto e ve la spalmate sulla faccia la spalmate sulla faccia la massaggiate sia sulla faccia che sugli occhi non c'è pericolo perché non brucia assolutamente e non appanna gli occhi che è la cosa più bella del mondo perché anche chi magari tiene lenti a contatto e se le toglie solo quando va a dormire è una cosa fantastica non appanna agli occhi ve la spalmate benissimo soprattutto sugli occhi passati due o tre volte se riesco a capire come fare a girare in bagno potrei anche fare un video dove vi faccio vedere la mia skin care se non vi spaventate ma tanto ne ho visti tanti li fanno tutti così sono tutti molto casual molto ruspanti perché non farla stiamo qui per divertirci divertiamoci fino in fondo no? e questo è il primo step della skin care completa io questo lo uso soltanto la sera perché sono truccata una volta che l'ho spalmato sulla faccia mi bagno leggermente le mani inumidite e creo una bella schiumetta a questo punto prendo un panno di microfibra di quelli che ho comprato su Amazon apposta per estrocarsi che io trovo fantastici a 8 euro 9 euro 5-6 panni grandi così inumiditi togliete il grosso io lo ripasso due o tre volte in modo da toglierlo bene e poi vado con la detersione con la detersione a base di acido salicilico e schiumogena a base di acido salicilico e me lo verano perdonatevi ma è la prima volta che faccio l'influencer e vabbè capita allora mi sono dimenticata di dirvi che questo fantastico burro è formato da olio d'oliva che è chiaramente l'avevo forse già detto in un video precedente dove parlavo delle mani del mio nonno sicuramente emolliente lenisce la pelle se vi ricordate l'olio è la prima cosa che a me hanno insegnato a mettere quando mi scottavo deterge quindi è anche molto limitivo per quello che riguarda le ferite la faccia deterge ed è emolliente poi abbiamo l'olio di cocco che vabbè sappiamo tutti quali sono le proprietà dell'olio di cocco mantengono la pelle giovane ha delle proprietà antiossidanti leviganti aiuta a far diminuire le rughe è un idratante e ci sono un sacco di cose buone che fallo poi c'è il burro di caretè c'è la spirulina che è un'alga e è diventata molto popolare qualche anno fa per per il food se non ricordo male e qui dice che la spirulina è ricca di nutrienti vitamine acidi grassi e aminoacidi può diminuire l'infiammazione tonifica la pelle e promuove il rinnovo cellulare favorendo un aspetto più giovane per la carnagione poi abbiamo degli oli essenziali scorza di arancia dolce scorza di pompelmo yaya yang legno di cedro una lussuosa combinazione di oli essenziali che hanno proprietà anti-infiammatorie sebo regolatrici e favoriscono il bilanciamento della pelle questo barattolo contiene 80 grammi di prodotto e costa a prezzo pieno da solo 39 euro se lo comprate che è la cosa che vi consiglio io se mai vorrete comprare o provare questo prodotto io vi consiglio di comprare i set che sono già scontati e se poi andate a vedere i vari blog che poi vlog che vi inserirò qui sotto ci sono alcune ragazze che hanno degli sconti abbastanza interessanti ma soprattutto aiutano insomma a poter acquistare questi prodotti a non sentirsi troppo in colpa quando si fa shopping non so se Giulia Cova ha ancora questo sconto ma se tenete controllati i vari vips sicuramente trovate l'occasione poi una volta deterso il viso passo alla detersione schiomogena anche questo prodottino ha il suo prezzicino 120 ml allora tenete conto vedete fin dove arriva ecco io sono tre settimane che lo uso alla sera tutte le sere e qualche volta anche alla mattina direi che secondo me è una buona resa sono 120 ml e costa 29 euro a prezzo pieno se lo comprate come singolo prodotto se invece poi lo comprate nel set sicuramente vi conviene ha un profumo meraviglioso di melograno anche qua spreco un po' di prodotto per farvelo vedere guardate come viene ecco io uso per pulire la mia mio faccione un pump in mezzo quasi due ma non abbondanti voi lo spalmate sulla faccia proprio vi insaponate tutta la faccia la schiuma è morbidissima profumatissima e quindi ve lo passate sulla faccia dopo che avete passato il burro e ve la risciacquate con dell'acqua alla fine tamponate con una bella salviettina di lino se le avete come me di dote che non le usate io le uso per questo per tamponarmi il viso dopo che l'ho truccato che schifo che fanno queste salviettine comunque va bene arrivati a questo punto siamo al secondo step quindi questa è la famosa doppia detersione della skin care coreana questa è la parte struccante che si ciao è la parte con lo struccaggio oleoso e questa è la parte con lo struccaggio schiumoso arrivati a questo punto arriviamo alla maschera che è un portinto un portinto questa maschera anche qua guardate l'ho fatta penso cinque volte cioè il prodotto dura un botto qua mi dura un anno non posso neanche comprare delle nuove maschere l'ho già comprata l'ho già comprata ragazzi che bello fare shopping mi fa stare bene va bene allora vi stavo dicendo ah non vi ho detto le proprietà sono proprio una ciofeca non vi ho detto le proprietà del bubble double ah anche questo non brucia se vi va negli occhi ho provato proprio zero non dà nessun fastidio qui lo dice dice che per una pulizia profonda della pelle questo detergente schiumoso penetra in profondità nei pori lasciandoli puliti luminosi e prevenendo la comparsa di nuove impurità cosa abbiamo qui dentro abbiamo abbiamo il melograno giusto allora abbiamo il melograno che è un potente antiossidante naturale che aiuta nella lotta contro i danni del sole l'iper iperpigmentazione e le macchie dell'età quindi perfetto il melograno ha anche la proprietà stringente che riduce la grandezza dei pori quindi direi è perfetto per me che ho la pelle mista grassa e effettivamente il suo lavoro lo fa egreggiamente poi abbiamo il glucosite di decile intensioattivo delicato di origine vegetale questo intensioattivo io lo conosco bene perché lo uso molto spesso nei miei detergenti hand made ed è infatti usato molto spesso per gli sciampi dei bambini bagno schiuma molto molto delicata sul viso anche se comunque agisce in profondità nella pulizia e poi abbiamo c'è l'acqua ci sono altri intensioattivi delicati c'è l'olio essenziale di mandarino c'è come abbiamo detto prima il melograno acido citrico vitamina B12 e altre componenti interessanti arrivato al secondo punto arriviamo alla maschera la maschera io la faccio due volte a settimana anzi quasi tre perché se la faccio il lunedì il mercoledì e il e la domenica o il sabato e la domenica questa la faccio due volte a settimana in mezzo alterno una maschera di quelle in tessuto o la maschera esfoliante ma anche di quello vi parlerò la prossima volta questa maschera ha un profumo mamma che buono è un profumo delizioso sa di curcuma e di vitamina C infatti sa di di agrumi bellissima ha un colore spettacolare spettacolare e il regalo c'era quando l'ho comprata io questo pennellino attenzione io ho imparato a non usare a non prendere mai i cosmetici qualsiasi tipo di cosmetico con le mani nel barattolo perché magari ho le mani umide perché anche se ho appena lavato le mani magari ho toccato qualche altra cosa quindi io uso sempre queste palettine adesso questa è quella che c'era in dotazione ma ne ho tantissime di quelle di plastica o anche un cucchiaino di plastica quello dei gelati di una volta avete in mente comunque sia un cucchiaino per prelevare qualsiasi tipo di prodotto e poi lo metto sulla mano e sulla mano me lo spalmo sulla faccia ho preso questa abitudine e penso che sia molto più igienico per preservare bene tutti i prodotti che noi usiamo questa maschera che è spettacolare la applico col pennello guardate che meraviglia mi piacerebbe fare un video ecco si applica così uno strato sottile ok e una volta che la maschera è quasi asciutta ma non del tutto attenzione le maschere sulla faccia non bisogna farle seccare a meno che non ci sia scritto che sia una prerogativa di questa maschera e questo l'ho imparato da Giulia Cova che lo ha spiegato molto bene in un suo video perché giustamente lei diceva che se la maschera secca toglie tutto quello che c'è sullo strato della pelle quindi la maschera deve essere umida e magari si può anche vaporizzare con un prodotto adatto c'è un prodotto di questa di questa linea ma che vi spiegherò la prossima volta perché sennò veramente diventa un video estremamente lungo e già non sono brava ad esporre queste cose perché perché le ho appena conosciute e non sono un'esperta non sono una dermatologa ma sono soltanto Eli che si è approcciata a questo nuovo mondo e cerco di condividerlo con voi perché mi sono talmente entusiasmata e mi è piaciuto così tanto che mi piacerebbe che altre persone cambiassero il pensiero come l'ho cambiato io perché io all'inizio avevo questa idea proprio di che fosse tutta una cosa commerciale e invece non lo è ritorniamo alla nostra maschera poi alle chiacchiere andiamo avanti dopo questa maschera la lasciate agire 10 minuti eventualmente la vaporizzate ogni tanto con una mist o con io uso anche lo spray della Venn l'acqua termale della Venn che è buonissima e poi la rimuovete con un panno e vi sciacquate la faccia arriviamo a questo terzo step e vediamo che cosa c'è in questa maschera le caratteristiche di questa maschera sono la maschera illuminante opacizzante e disintossicante illuminante perché contiene la frutta iusa e l'argilla caolinica che illuminano la pelle opacizzante perché c'è il caolino e il caolino lo sappiamo è un'argilla che viene spesso usata per chi ha la pelle grassa e aiuta ad assorbire l'olio della pelle quindi è perfetta disintossicante perché la combinazione tra argilla e curcuma riesce a disintossicare la nostra pelle fino in fondo poi c'è l'olio essenziale di limone infatti si sente veramente tantissimo la frutta iusa che è iusa che è questo agrume particolare che ha molta vitamina C molto più dei limoni dicono è un ingrediente potente attivo per la cura della pelle illumina la nostra pelle la energizza la tonifica quindi direi che è perfetto la curcuma io la amo sia in cucina anche in cosmesi rallenta il processo di invecchiamento e la formazione di rughe previene e guarisce la pelle secca dandole quel sano splendore che stiamo cercando poi c'è l'olio essenziale di limone con le sue proprietà il fiore di camilla japonica è una pianta originale della Corea della Cina e del Giappone ed ha delle proprietà antiossidanti anti inquinamento e lenitive quindi direi che ci sono davvero tantissimi ingredienti buonissimi la cosa che mi piace di di questa linea è che innanzitutto anche il packaging è in vetro e mi piace tantissimo perché è sicuramente molto più riciclabile e meno inquinante insomma e poi hanno questo modo di presentare tra l'altro adesso è cambiato hanno fatto un nuovo packaging molto più semplice ma anche così a me piaceva tantissimo dove è indicato come fare ad applicarla dove è indicato a che passaggio della nostra skin care lo dobbiamo fare quindi se sicuramente siete confusi come lo sono stata io basta guardare il disegnino qui adesso aspetta che ve lo faccio vedere magari non si vede tanto ma qui per esempio vedete ecco vi dice che la maschera è il quarto step perché il terzo è l'esfoliazione che io non faccio sempre però perché già per me questo è più che sufficiente allora il primo è l'olio lavante secondo è il lavaggio con la schiuma detergente il terzo sarebbe l'esfoliazione e il quarto la maschera ecco io l'esfoliazione o faccio l'esfoliazione o faccio la maschera perché la mia pelle è molto sensibile e mi brucia troppo si irrita si irrita tantissimo poi è ovvio che uno in base alla sua pelle decide quali step fare quanti step fare come farli io alla sera dedico molto molto più tempo alla mattina ne dedico di meno ma vi dirò anche che visto che me la sono presa proprio come coccola personale come voglia di volermi bene di farmi del bene io alla mattina punto la sveglia alle 6 e un quarto e ho tutto il tempo per farmi i miei passaggi e vi dirò di più allora qualcuno di voi dirà è brava io mi sveglio alle 6 io sono sempre stata una che si alzava alle 7 anche perché lavoro vicino a casa a 10 minuti in macchina quindi una volta che ero in piedi alle 7 non facevo skin care mi truccavo con un po' di BB cremo fondotinta senza nessuna preparazione sotto una riga sugli occhi e finita la storia adesso ho proprio imparato a volermi bene quindi a dedicarmi questo tempo per me perché poi tutti dormono sono in bagno da sola tranquilla mi faccio i miei 4-5 passaggi alla mattina poi mi preparo per il trucco mi trucco mi diverto mi diverto tantissimo mi rilasso mi preparo per la giornata ho un nuovo stimolo ed è una cosa che mi piace veramente tantissimo in più alla sera vi dirò un'altra stupidata che tante volte ho voglia di truccarmi alla mattina anche così alla sera posso fare la skin care completa sarò scema sicuramente sì va bene detto questo detto tutto comunque anche se non sono truccata alla sera comunque la skin care la faccio sicuramente con molti più passaggi e devo dire che mi piace un sacco perché è proprio un momento un momento per me qui mi prendono tutti per il chiulo perché mi vedono in giro con le mie mascherine una volta all'argilla una volta quelle di tessuto una volta quei patch per le occhiaie vabbè non vi dico che cosa pensano di me in questa casa ma mi interessa perché mi diverto troppo cioè ma mi diverto sono ritornata bambina capite questo mi serve perché la mente mi si alleggerisce riesco a buttare fuori a non pensare a tutti i miei problemi che saranno i problemi di tutti c'è anche gente che ha problemi molto più grossi dei miei però io in questo momento faccio veramente fatica e devo trovare uno sfogo una valvola di sfogo qualcosa che mi faccia stare in bolla ok e l'ho trovato in questo momento in questa cosa quindi so che magari tantissime persone non guarderanno questo video perché non sono interessate perché comunque il pubblico che magari mi segue è più portato per i lavori creativi e non importa non importa anche se soltanto una persona avrà visto questo video avrà trovato delle idee avrà detto to cavoli non ci ho mai pensato quasi quasi lo faccio anch'io ci provo oppure si diverte guardando il link che metto e le persone che consiglio io sono contentissime perché in questo momento ho condiviso una cosa che mi fa stare bene e l'ho condivisa con tutti voi insomma quindi anche soltanto se una persona sola lo guardasse io sono contentissima così guardo sul mio bigino se avevo scritto altre cose da dirvi non so neanche da quanto tempo sto parlando ah ecco sì una cosa importante che vi volevo dire ma forse l'avevo anche già detta ma non me la ricordo più è che comunque quando comprate dei prodotti sia che siano di una stessa linea oppure potete tranquillamente comprare prodotti che ne so il burro struccante di una marca perché vi piace la schiuma detergente o il gel detergente di un'altra di un'altra casa perché poi ci sono vari tipi di detergenti acquosi quindi secondo me veramente vi dovete proprio proprio cioè se è una cosa che vi interessa informatevi perché ci sono davvero tantissimi brand tantissime linee per tutte le tipologie di pelle secondo me bisogna anche provare e quindi ricordatevi sempre di guardare l'inci di ogni di ogni prodotto per dirla in poche parole l'inci che cos'è allora l'inci è l'acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients cioè è praticamente la lista degli ingredienti che ci sono nella ricetta del cosmetico e sono in base alla quantità quindi generalmente al primo posto troverete Waters che è l'acqua lo so dire in inglese poi ho perso il foglietto che continua aspettate che non ho più qua neanche la pagina che rinco che sono ma da erano sei pagine e vabbè non le ricordo più vabbè comunque l'inci è la lista praticamente degli ingredienti della ricetta come quando trovate la ricetta del pane per eh eccolo qua per capire quali sono gli ingredienti la stessa cosa è questa qua è diventato obbligatorio dal 1997 che ogni cosmetico che viene immesso nel mercato riporti comunque sulla confezione l'elenco degli ingredienti che sono contenuti e da quello riuscite a capire anche che tipologia di qualità a quell'ingrediente dove acquistiamo ovunque nel senso che possiamo acquistare nei negozi della nostra città se avete la fortuna di avere un tigotà oppure le profumerie tipo marianose fogà oppure perché no nelle farmacie di fiducia se magari avete una farmacista o un farmacista che vi conosce che conosce la vostra pelle quindi vi può dare dei consigli sicuramente adesso la skin care coreana sta diventando è diventata molto di moda io sono molto in ritardo nell'averla scoperta e quasi tutte queste queste farmacie questi questi negozi di cosmesi hanno comunque dei brand di cosmesi coreana o comunque di di skin care che vi possono consigliare lo trovate da qualsiasi parte a me non piace andare tanto nei negozi perché perché appena entro ci sono gli avvoltoi che queste commesse che mi sembrano poco preparate e vogliono soltanto vendere più di una volta sono rimasta fregata da Sephora che mi hanno venduto delle cose probabilmente ero anche io che ignorante andavo pensando di trovare qualche consiglio e mi hanno consigliato malissimo quindi io preferisco sbagliare da sola quindi mi informo cerco provo su internet vedo le recensioni di altre ragazze o di altri ragazzi vedo se quella cosa mi può interessare se può essere adatta alla mia pelle se può essere una cosa che posso provare se riuscite so che tante aziende lo fanno comprate le mini sites o le tra le sites travel quelle piccoline in modo che se per caso sbagliate a comprare un prodotto vabbè non dico che lo buttate magari lo potete anche buttare oppure lo potete regalare ma se vi comprate il barattorone da 200 ml insomma le balle girano anche un po' di più perché generalmente comunque questi sono prodotti che hanno un certo tipo di costo non è detto che sempre le linee più costose siano le più buone ci sono delle linee cosmetiche o comunque di beauty care di skin care che sono veramente molto abbordabili e molto 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 buone che altro dirvi vi metterò l'elinko dei 150 siti e-commerce che io ho scoperto così non soffrirò soltanto io ma soffrirete anche voi a vedere tutte queste meraviglie deliziose perché poi la cosa che mi piace oltre al fatto che questi prodotti siano veramente molto buoni per la nostra pelle che ci possano regalare una coccola che ci cambino la pelle io ho veramente sperimentato questa cosa perché il trucco sopra una pelle curata pulita detersa idratata è diverso a me dura fino a sera e dura in maniera diversa e penso che lo possano testimonare le mie colleghe che sicuramente staranno guardando questo video Monica Lele e Daniela perché mi hanno detto che devo diventare un influencer e quindi se devo diventare un influencer loro sono le prime che devono vedere questo video comunque a parte gli scherzi anche loro mi hanno detto ma guarda che si si vede si vede la pelle diversa la grana della pelle cambiata e quindi secondo me non sono tutte palle insomma i prodotti buoni fanno bene la nostra pelle e la nostra pelle la dobbiamo curare coccolare e amare perché fa parte di noi e quindi se la pelle è bella siamo più belli anche noi insomma penso che vi ho detto tutto spero di avervi detto tutto adesso mi viene anche il dubbio che non ho registrato se non ho registrato mi tiro un colpo in testa e che vi devo dire vi do appuntamento alla prossima puntata dove spero di essere meno prolissia prolissia ma più ricca di informazioni all'inizio appunto vi ho presentato i libri vi ho presentato questi 3 prodotti che secondo me sono spaziali questa linea è spaziale è vero direi come fai a dire che è spaziale che è la prima che trovi però vabbè se già la prima che provo è spaziale vuol dire che insomma ho centrato bene e e nulla vi lascerò le più informazioni possibili nell'info box in modo che anche voi possiate andare curiosare vedere informarvi divertirvi comprare fatemi vedere che cosa comprate se avete delle domande se avete delle domande fatemene se sono in grado di rispondere vi risponderò se no mi documenterò e cercherò di rispondermi nel prossimo video vorrei farvi vedere gli ultimi 4 prodotti si 1,2,3,4 5 prodotti che mancano per finire questa skin care e poi vi parlerò anche dei prodotti aggiuntivi che io comunque inserisco durante la settimana quindi la maschera di tessuto piuttosto che il patch occhi piuttosto che la maschera occhi piuttosto che la maschera serale quale maschera usare io non è che l'esfoliazione quella chimica e quella meccanica parleremo magari di altre di altre cosine se avete qualcosa che vi interessa che io possa approfondire ditemelo che prima studio e poi magari ve ne parlo bene nessuno c'è interrotti ho sentito che prima la rinella ha chiamato spero che non sia successo niente ma nessuno è venuto a chiamarmi qui no vi dice comincio già a elaborare cose che non dovrei elaborare bene io vi saluto vi auguro una buona serata vi auguro una buona notte adesso io vado a fare la mia skin care serale e vado anche ad applicarmi i cerotti per i dolori perché dopo i 50 anni non c'è più la crema corpo ma c'è il voltare e i cerotti antidolorifici vi saluto con un bacione e spero di rivedervi presto grazie della compagnia ciao